La struttura dell'area SAI Mereugrani ha una capacità ricettiva di 80 posti letto e un centro di urno integrato di 15 posti letto. L'area dove si insediata la struttura era un'area verde al centro di un quartiere residenziale, quindi avevamo già pensato di fare una struttura che si inserisse in modo il minore impatto possibile e si integrasse con il quartiere residenziale. Per quanto riguarda l'impostazione progettuale e funzionale abbiamo cercato di dare il più possibile un'immagine alberghiera piuttosto che di struttura ospedaliera, anche se dal punto di vista strutturale, impiantistico ne ha le caratteristiche. Per quanto riguarda poi le stanze, la forma stessa che ha assunto l'edificio aiuta a personalizzare gli interni in quanto ci sono porzioni diverse dell'edificio con forme diverse e quindi anche le stanze che sono state ricavate all'interno hanno forme diverse, affacci diversi e tutto questo tende alla personalizzazione piuttosto che alla standardizzazione tipica delle strutture ospedaliere. Nelle nostre strutture viene garantita un'assistenza completa, quindi a 360 gradi. Viene assicurata l'assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, di socializzazione e tutto quello che riguarda anche la parte alberghiera. Il personale è qualificato, quindi all'interno della struttura opereranno solo persone con qualifica, os, medici, infermieri, fisioterapisti. Abbiamo un'esperienza ormai ventennale di lavoro, contiamo di accogliere i bisogni sotto tutti i punti di vista e di poterli anche soddisfare al meglio. I primi ospiti entreranno ufficialmente lunedì 19, entreranno tre anziani, faccio presente che ospitiamo anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti totali. Potremmo ospitare anche persone autosufficienti e garantire loro la privacy, proprio perché il nucleo ha un nucleo di singole, la struttura è isolato dalle doppie e addirittura con un accesso esterno del quale loro potranno tranquillamente usufruirne. Insomma, quindi potranno davvero essere a casa loro. Facciamo dei ricoveri che potranno essere a tempo indeterminato, ma diamo anche la possibilità di fare ricoveri di sollievo, quindi anche solo di una settimana, 10 giorni, 20 giorni, quello che a uno interessa.